Appuntamento campano del Partito Comunista alla nuova formazione politica con leader nazionale Marco Rizzo che ha concluso i lavori ricordando l'impegno contro le politiche dell'Unione Europea e della Nato e nessun rapporto politico con Partito Democratico e Centrosinistra. Nazionalizzazione di banche in grandi imprese unite alla gestione affidata ai lavoratori sono i punti salienti del programma che verranno l'appuntamento nazionale a Roma l'8 novembre per l'anniversario della rivoluzione sovietica. I comunisti, quelli che pensano davvero di cambiare il mondo, sono contro l'Unione Europea, contro l'Euro e contro la Nato cioè l'idea di una nuova capacità delle classi popolari di prendere in mano il proprio destino da qua la costruzione del Partito Comunista.